La creatura politica di Matteo Renzi, come anche lui ama definirla, la Leopolda è alla dodicesima edizione con la sua identità e oggi cammina sulle sue gambe. Si dibatte soprattutto di politica, di attualità politica. Il tema più caldo di queste ore, quello sui presunti dossieraggi. Dossieraggio è uno scandalo vero. È uno scandalo che deve essere affrontato nella commissione di inchiesta parlamentare proposta dai ministri Crosetto e Nordio. Ho l'impressione però che la Meloni non voglia questa commissione, chissà perché, ma politici a parte il problema sono i cittadini. Dobbiamo dare sicurezza e garanzia ai cittadini che nessuno possa entrare nei database e prendere i dati sensibili. Fin dalla nascita di Italia Viva lei ha parlato di un partito dal DNA europeo. Oggi come vi ponete nei confronti di Bruxelles? Io sono per l'Europa, io sono per l'Europa viva, ma se l'Europa non cambia, muore. Non tocca palla tra Stati Uniti e Cina. E diciamo la verità, anche questa leadership di Ursula von der Leyen è stata una grande delusione. Se saremo eletti al Parlamento europeo chiederemo di cambiare la presidente della commissione.